Se lui non si comporta come vuoi, ignoralo e fai no contact. In questo video voglio spiegarti che se lui non si comporta come tu vuoi, la cosa migliore è ignorarlo e fare no contact. Prima però di affrontare il tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema, se non fa quello che vuoi, ignoralo e fai no contact. Allora, quando un uomo non si pone a complementare le tue esigenze, quando di fatto non fa quello che vuoi, quando adduce delle scuse, quando parla a vanvera, diciamo così, parla ma non mantiene le sue promesse. Quando non è allineato con le tue esigenze, l'unica cosa vera che devi fare per sbloccare la situazione è ignorarlo facendo no contact. Ovviamente senza dargli alcuna spiegazione, non devi stare a dire ma perché fai questo, ma perché fai quello, questo è un qualcosa di estremamente negativo, devi assolutamente ignorare e passare alla fase di no contact. Ignorare non vuol dire che tu, diciamo, sei lì che dici brutto qua, brutto là, perché fai questo, perché fai quello, no. Ignorare vuol dire che non ti do spiegazioni, passo subito senza darti nessuna spiegazione, senza darti nessuna giustificazione, passo subito alla fase di no contact. E la fase di no contact è quella fase in cui non ti do assolutamente nessuna spiegazione, non ti do assolutamente nessuna, diciamo, come possiamo dire, non ti do assolutamente nessuna giustificazione, ma tu devi proiettare, perché dobbiamo tenere presente che i meccanismi proiettivi sono meccanismi molto potenti. Se lui proietta, sicuramente, diciamo, ed è predisposto, potrà tendenzialmente viversi il senso di colpa. Per noi è fondamentale, cioè per te è fondamentale, ad esempio, stimolare il senso di colpa, perché attraverso il senso di colpa tu riesci ad ottenere, è una delle fonti di approvvigionamento, delle tensioni emotive. Se questo non vive il senso di colpa, però vivrà sicuramente un senso di inadeguatezza, un senso di disagio. Perché non si renderà conto del fatto che comunque tu non gli stai, cioè non sei più, come dire, disponibile ad accettare le sue condizioni, non sei più disponibile a far sì che quello che lui ti vuole imporre venga accettato. E il no contact va fatto nel modo giusto, ovviamente. Qua bisogna, l'ho spiegato tante volte, però è molto importante, il no contact ha dei tempi precisi che vanno assolutamente rispettati. Quali sono i tempi del no contact? Beh, i tempi del no contact, intanto no contact significa contatto zero, il che vuol dire che non devi andare a spiarlo nei social, non devi andare a guardare lo stato whatsapp, non devi fare niente. Perché normalmente le persone durante il no contact fanno di tutto. E vabbè però, poverino, e vabbè ma qua, e vabbè niente. Non devi assolutamente dargli modo di pensare che tu in qualche modo lo controlli, che tu in qualche modo lo cerchi. devi essere completamente distaccata, totalmente distaccata. Questo è una cosa molto importante, fondamentale. Se tu già riesci a fare questo, ti servirà moltissimo a te il no contact, perché riuscirai a mantenere un distacco totale, un distacco completo. Per la situazione riuscirai ad essere completamente, diciamo, distaccata, completamente dissociata da quella persona. Questo è un fatto molto importante. Mantenere il distacco è veramente importante. Perché nel momento in cui, perché si percepisce a livello energetico, noi non comunichiamo solamente a livello, anche, comunichiamo anche con qualcosa che va oltre l'emotività, che va oltre l'emozione. Comunichiamo a livello energetico. E la comunicazione energetica deve essere una comunicazione tale per cui tu non manifesti verso questa persona nessun interesse. È molto importante farlo. Poi ci sono dei tempi da rispettare. Entro le 72 ore, se la persona si manifesta, cioè entro i tre giorni, tu gli rispondi mettendo subito i vincoli. Cioè, vuoi vedermi? Fai esattamente tutto quello che ti dico. Se non fai tutto quello che ti dico, Amen. Il mondo è un mare pieno di pesci. Morto un papa, se ne fa un altro. Morto un re, se ne fa un altro. E siamo in un paese, in un pianeta sovrappopolato. Quindi, l'unica cosa che non mancano sono le persone. Quindi, se questo non va bene, ne verrà fuori un altro. E poi, diciamo, al di là di questo, ci sono altre situazioni che tu puoi mettere in atto. altre cose veramente molto importanti che sono entro i 21 giorni. Entro i 21 giorni tu dovrai dargli, diciamo, tutte le attenzioni di questo mondo. E è molto importante fare questo entro i 21 giorni. Perché, se tu riesci a fare questo entro i 21 giorni, se lui si manifesta entro i 21 giorni, è assolutamente vietato rispondergli. Perché rispondergli in quella fase temporale lì, vuol dire già gratificare. Quindi, almeno per le tre prime telefonate o tre prime messaggi non devi proprio prenderli in considerazione. Al quarto, rispondi mettendo i vincoli. Se li accetta bene, se non li accetta, amen, fuori dai maroni, uno di meno, sette di bastoni, fuori dai maroni. E, invece, uscendo fuori dai 21 giorni, se ti cercano, non so, dal 22esimo in poi, metterai subito dei vincoli. Ecco, questo è come va espletato il no contact. ma l'importante è farlo che in tutto questo periodo di tempo tu ti concentri su te stessa, ti concentri su quello che ti piace, ti concentri sull'amore per te stessa e vedi anche altre persone, fregatene, no? Cioè, vedi altre persone, non è l'unico sulla faccia della terra. Dovrà, come dire, dimostrare ampiamente di meritarsi le tue attenzioni. Dovrà dimostrare ampiamente di dimostrare di meritarsi che tu gli dia, diciamo, la tua presenza. Pensa, recita il mantra, io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Vedrai che le cose cambieranno. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella se non l'hai ancora fatto così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, seguimi sulla pagina TikTok, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra quattro livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!